Ciao a tutti ragazzi, siamo Lievocusin, io sono Davide e io sono Simone. Benvenuti in questo nuovo e ultimo livello della Diversity 2. Allora ragazzi, dopo l'uso dell'aiuto sul labirinto, siamo qua per fare l'ultimo livello. Il boss, esatto, boss baiter, ragazzi, è l'ultima, è il nero, speriamo che sia difficile perché è l'ultima. Non c'è la piazza come i neri perché sennò è dura la cosa. Ecco, non riuscivo neanche ad entrare nel buchino, quindi figurati se ne siamo messi. Ok, qua dietro abbiamo, cazzate, ok. Detonato hub, brutta roba ragazzi. Cazzate come al solito. Quindi, bene, possiamo andare. Beh, direi che è proprio figo qua, è fatto proprio bene. Cioè, dico che quello che ha fatto la struttura si merita un bel gg. Un bel gg? Un bel gg, sì. Guarda che Wither, bello. Bello, bello grosso. Bello grosso. Bello grosso. È una roba che prende fuoco, cioè. Io lo vedo a metà perché, vabbè, son forte. Bene ragazzi, allora. Dovete sapere che... Left the game. L'obiettivo, a parte morire come stiamo facendo ora, è praticamente... Non più morire. Esatto. È praticamente ammazzare quelle teste di g... Eh... Quelle teste lì. Vabbè ragazzi, mi sa che qua la cosa si fa lunga. Comunque, l'obiettivo dovrebbe essere abbattere quelle teste lì. Solo se senza arco. Vedi quei bottoni lì? Dovrebbero essere premuti. No! Non muore. Madonna. Cugino, la roba lì non crepa. Bene, intanto... C'è il carissimo... Fly is not ability on this server. Ma cosa vuol dire? Gesù, dai! Pronto! Hanno deciso di non rispondere, capito? E quindi... Allora... Aspetta un attimo. Ok. Oddio. Ah ma aspetta! Oh mio Dio. Inserite un tuo enchant. Enchantamelo! Ok. Oh mio Dio. Cugino, sto enchantando gli archi. Madonna. Ok, ho enchantato gli archi Cugino, c'è un arco enchant. Perfetto, perfetto. Ma quanti ne hai? Uno enchant, però non so come me ne hai enchantato. Buono, buono, indistruttività. Cugino, a posto, vieni. Cos'è sta roba? Cugino. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, adesso possiamo... Adesso si full down, praticamente. Sì, possiamo evocare due room per ora. E mi faccio... Mi penchanto la corazza. E anche di cose. Io... Cercherò... Ma non è possibile. No, me ne ha... Ma no, me ne ha fregata una. Io non riesco a... Oddio! Perfetto, perfetto, ragazzi. Perfetto. Allora. Protezione al fuoco. Protezione... Ok, perfetto, perfetto. Eh, mi ha fregato un pezzo di corazza. Non so perché, ragazzi. Forse perché ne ho messi due insieme può darsi. Cugino ha aperto, ha aperto! Ha aperto il cane! Cugino, mamma mia. Spacca tutto, Cugino. Spacca tutto. Spacca tutto. Devi morire. Flagellatelo. Eh, no. Ma non muore mai quel coso lì, pratica. Io non ho capito. Io non ho capito. Io non ho capito. Ma prima era come se fosse... Eccolo, VG. È morto! 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 Mamma mia! È morto! Sì, è morto! Signore! Ma si sta rigenerando ancora? Ancora! Ma l'ha ammazzato! Ah, ecco. Ah, ecco. Se si rigenerava ancora, mi incazzava. Ma devo fare la convergenza a questo arco? Non tira le... Oh, ok. Non lo tira dritto, cioè. Ma non è che... Ma allora anche il mio, scusami, eh. Ma c'è qualcosa che non va a sti archi, perché anche a me le tiravo a st'arte. Cioè, puntava da una parte e le tirava dal lato, vabbè. Io devo cercare di capire come non prendere troppo danno da sti cosi. Se faccio così non dovrei prendere tanto danno. È morto! È morto! Oh! Ma sei rigenerato! No, aspetta, qui c'è qualcosa che non va! Sei rigenerato? Le cariche di fuoco penso che le dobbiamo lanciare contro. Dici? Sì. Quasi sicuramente, di solito le cariche di fuoco. Però le lancia troppo velocemente, perciò. Però so soltanto che allora la testa di sinistra non dovrebbe più, eh. Oh! Bravissimo, bravissimo, perfetto. Eh, perché... No, aspetta. Però non ha fatto un cristo, cioè. Eh, ma è normale. Ancora gliel'ho fatto. Adesso non mi ricordo com'è che bisognava fare. Aspetta, quando viene verso di noi. Oh, sta sparando. Oh, a posto! Ah, oh Tio. A posto, a posto, perfetto, perfetto. Ah, era servito a quello! Esattamente! Adesso vomita un pochino. Mmm... Bel vomitino. Le cacca dei conigli questo aspetta. Cos'è? Quello di fianco non è esploso però Ah guarda deve andare là Ah il parkour Coggi sei pronto? Pronto a fare che cosa? Non lo so qui ci sono tantissime leve Oddio cioè vuol dire che era lui che Che governava ma no È già ammazzato Bene ragazzi allora Per concludere molto velocemente Possiamo Benissimo Piazzare il nostro blocco di lana E ragazzi l'ultimo Finalmente l'ultimo Dopo anni Perfetto ci metteremo il doppio da editarli Questi qua però non è un problema In teoria dovrebbe succedere qualcosa Però non so cosa Esplosioni Guardate che roba E ragazzi allora Io spero che Bene Sia una battaglia finale tranquilla E senza Senza Spergimenti di sangue Spergimenti di sangue Grazie a tutti.